Nicola Porcu, classe 1931, 84 anni, ben portati, e i nuoresi si chiedono sempre ma Nicola che fine ha fatto? Nicola sta bene e gode ottima salute. Con amici, raccontando il passato e il presente, poi chiese che bisogna sapere innanzitutto, gente che ha avuto nel passato che ha traballato, non sa chi ha lavato il panno, i tennini, quindi andavano a coca e spani, tutto quanto ci ha sacrificato, purtroppo la vita è così, il destino, cioè nessuno lo conosce e lo diciamo come viene, tra una cosa e l'altra raccontando un pochettino di noi, delle loro usanze, delle loro tradizioni, del loro lavoro, che caso è tennini, che io già delle loro feste conosco, e tutto quanto, però un momentino ed è giusto anche sapere di loro, come te lo festeggiavano, e tutto quanto, e tra una cosa e l'altra passiamo, purtroppo. Nicola, ma ti manca la moto? Senti la nostalgia della moto? No, la moto, la moto, la moto, manca tutto a sé, cioè parecchi dicono ti manca nuoro, nuoro, sa, la città è nativa, però mi manca un po' tutto, le scruite, ma viene di teo mi muovi un po' sulla Sardegna, amici che non dà finocchio, ma un pochettino da per tutto, tramite, ossia per gruppi, per il fatto dello sport, sportiva, gruppi folco, amici, un pochettino da per tutto, i politici, che gustoso, no, ma non devono loro giocare sulla pelle degli altri, che hanno telefonato prima se potevano, come se possono, ma sai hanno questa aperta, se tu hai da venire, vuol dire per visitarmi, no, no, sono venuti con il disco. È sempre un piacere trovare gli amici, senza naturalmente che c'è qualcuno che voglia speculare, come sono cos'è, ma dicono un caso di nulla, cioè purtroppo sai benissimo, la vita è quella che fa il suo corso. E beh, scusso, perché parecchi dicono, ma però i tanno, no, intanto vi ricusto, quando io erano a Nuoro c'erano 19 esattamente domande fatte per la casa di riposo, quindi prima è tutto canto, e tutto va bene. Si è poi richiesto sulle varie cose, da per tutto non c'era un posto, qui invece si era liberato, adesso vengono a Nuoro. Ed è un bel posto, vero? Sì, 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 tranquillo. Beh, comunque io si aspetta che avessi un posto naturale, comunque dai, penso che vi scusso, arrivano i politici, gli dico che Nicola, se tu vuoi venire a Nuoro già da domani c'è il posto. Tanti schiapano, non giocate sulla pelle degli altri. Esatto, è molto speculare, sì. La prima mele di guarda che è 9, come, ma chi volete buttare fuori? La Pona ne conviene che io non sono nulla, ma tu hai fatto, tu non ti interessa quello che ha fatto Nicola, l'ha fatto per la città, volontario. Perfetto. Una cosa, la Pona e non mi chiedete su un tonario, che vuoi buttare fuori? La Pona adesso, veni no, che no, che a Barro. E gli hai dato una bella risposta dignitosa e serena. Grazie.